Siamo con Mariana Misceni, Presidente della Rete a Puglia Ghispi, che oggi si promuove qui alla BIT 2013 con un'innovativa chiavetta. Sì, oggi siamo qui in BIT per presentare il primo contratto di rete tra aziende turistiche salentine e anche agroalimentari. Abbiamo pensato di promuoverci in maniera innovativa, non abbiamo pensato al classico catalogo, ma abbiamo presentato in BIT questa chiavetta, che è una chiavetta USB, all'interno abbiamo già 26 aziende turistiche salentine e anche agroalimentari, appunto come dicevo. Stiamo cercando di promuoverci attraverso delle partnership con delle compagnie aeree, affinché si possa promuovere un pacchetto vacanza che includa sia l'hospitality in albergo, ma anche una serie di servizi annessi alla vacanza, oltre anche il volo, grazie a queste partnership con delle compagnie aeree. Grazie a tutti.